Seconda parte di Mattina Sud di questo 13 dicembre. Salute e ringrazio per la sua presenza il sindaco di Carosino, Onofrio di Cillo. Grazie sindaco, lei oggi ospite della rubrica Sindaci di Puglia e Basilicata, perché ad Antenna Sud piace raccontare quello che accade nei vari territori di queste due regioni di nostra competenza. Allora, intanto partiamo dal tema d'obbligo, che è quello natalizio, perché oramai è iniziato già il conto alla rovescia, in vista del 25 dicembre, il tempo vola e quindi come si respira, in che modo avete consentito ai vostri concittadini di respirare l'aria del Natale a Carosino? Cosa state facendo? Cosa avete messo in cartellone? Beh, intanto buongiorno a voi e grazie per l'invito, insomma, quindi saluto anche tutti i telespettatori di Antenna Sud. Beh, cosa abbiamo messo in cartellone? Quello che ovviamente si tenta di mettere durante le festività di Natale, per far sentire ai nostri cittadini il calore dell'aria natalizia. Abbiamo istituito insieme al Simposio dell'Oglionio, che è un'associazione importante del nostro paese, insieme alla Proloco, che è l'associazione per l'eccellenza per quanto riguarda la promozione del territorio, abbiamo fatto all'interno del nostro castello il villaggio di Babbo Natale. Ormai l'abbiamo inaugurato il 26 novembre, sta avendo un grandissimo successo. Insomma, la nostra piazza è ben illuminata, insomma, si respira molto bene l'aria natalizia. Poi ovviamente abbiamo messo in campo concerti di Natale, abbiamo organizzato degli incontri con i bambini nella nostra biblioteca. Proprio l'altro giorno abbiamo finito di realizzare l'albero di Natale con i ragazzi della scuola media. Insomma, tutto ciò che è possibile fare per far sentire l'aria natalizia così come deve essere. Insomma, il Natale è la festa dei bambini e delle famiglie, per cui tutte le amministrazioni provano a mettere in piedi dei cartelloni delle proposte, che in qualche maniera vadano ad esaltare questa cellula della nostra società, che poi è alla base della più importante, il pilastro. Come no, assolutamente sì. Insomma, c'è tutta una serie di iniziative, insomma, importanti. Fra qualche giorno c'è un'iniziativa dell'Anfas, che fanno una commedia con i bambini, con i ragazzi disabili. Domenica abbiamo Rusalta con un altro concerto nel nostro belsissimo teatro comunale. Insomma, tutto quello che è possibile fare affinché quest'aria natalizia la si senta al 100%, anche perché poi se teniamo conto che siamo stati due anni con la pandemia, insomma, stiamo pian piano ritornando a quella che è la normalità, che ormai, insomma, sembra che sia, insomma, definita in qualche modo. Anche se poi è anche difficile vivere fino in fondo. Io non so se lei condivide, questo mio punto di vista, l'aria di festa. Quando da altre parti del mondo giungono notizie tragiche, teatri di guerra, fino in fondo forse non si riesce a godere appieno, no, della festività. Beh, questo ci deve far riflettere. Io in tutti i discorsi che faccio, soprattutto ai bambini, ai ragazzi, metto in evidenza quello che stanno vivendo alcune popolazioni a pochissimi chilometri da noi. Poi, se ci pensiamo, l'Ucraina non è molto distante da noi. La Palestina. La Palestina, insomma, voglio dire, sicuramente in quei luoghi non stanno vivendo quello che stiamo vivendo noi. Quindi, in qualche modo, dobbiamo ritenerci anche fortunati, tra virgolette, di poter vivere quello che, insomma, è l'aria natalizia. Ma il nostro pensiero non può non andare anche a queste popolazioni che sicuramente stanno vivendo un momento drammatico della loro vita e speriamo che possa terminare nel più breve tempo possibile e possano tornare anche loro a quella che, diciamo, definiamo così, anche se è una parola difficile, la normalità. La fine dell'anno, come sempre, è tempo di bilanci ed è tempo anche di prospettive. Intanto partiamo da quello che è stato fatto per quanto riguarda l'attività amministrativa del Comune di Carosino. Ci sono tre, quattro cose delle quali siete particolarmente soddisfatti? Beh, assolutamente sì. Una su tutte era un obiettivo della nostra amministrazione. Tra l'altro noi siamo all'ultimo anno di amministrazione. L'anno prossimo noi abbiamo le elezioni, quindi il bilancio è veramente un bilancio, può essere un bilancio totale. Una cosa che c'eravamo prefissi, che dovevamo ridare ai nostri cittadini, era il parco pubblico. L'abbiamo preso che era diventato una foresta, oggi abbiamo restituito alla nostra cittadinanza un parco pubblico degno di essere chiamato tale, che è diventato di nuovo il fiore a rocchiello della nostra comunità. Questo per quanto riguarda le opere pubbliche, ma non solo il parco pubblico. Abbiamo ristrutturato una piazzetta che era completamente abbandonata, che si chiama Piazza Berlinguer. L'abbiamo ristrutturata, l'abbiamo ridata ai nostri cittadini e è diventato un vero parco molto grande, perché a Carosino stiamo ragionando sulla dimensione dei parchi europei. Stiamo cercando di fare parchi grandi e anche questo è un obiettivo che abbiamo raggiunto. E poi per non fermarci, soffermarci soltanto su quelli che sono i lavori pubblici, abbiamo per esempio avuto, siamo riusciti ad ottenere dalla Regione Puglia due finanziamenti importantissimi, due progetti importantissimi. Uno è Punto Cardinali e l'altro è Galattica, con cui abbiamo... Quindi avete investito sul fronte anche della formazione in vista dell'ingresso nel mondo del lavoro. Abbiamo avuto anche ospite da Lecce, l'assessore Sebastiano Leo, in collegamento. Insomma, la Regione Puglia sta attivando tutta una serie di misure, tutta una serie di programmi ed è opportuno, come avete fatto voi, che tutti i comuni rispondano in maniera attiva, perché poi veramente si crea un collegamento virtuoso fra i territori periferici e, diciamo, le istituzioni centrali. Diciamo che non ci siamo limitati ad affrontare la nostra vita amministrativa soltanto per quello che riguarda i lavori pubblici, ma abbiamo spaziato a 360 gradi e lì dove abbiamo potuto cogliere possibilità di finanziamento ci abbiamo provato e ci è andata bene. Insomma, Punto Cardinali sicuramente è stato un progetto importantissimo della Regione Puglia, un progetto di orientamento. Abbiamo fatto dei job day, insomma, mettendo a disposizione dei ragazzi delle posizioni aperte da parte delle aziende locali insieme al centro per l'impiego. Poi, dopodiché, insomma, attraverso i successivi job day ci siamo dedicati proprio ai ragazzi. Abbiamo fatto dei job day con i ragazzi della scuola media, con i ragazzi degli istituti superiori della provincia di Taranto e crediamo, insomma, che l'obiettivo era quello fare formazione con i ragazzi, perché poi l'obiettivo è questo. E qui dobbiamo ringraziare la Regione Puglia per aver avuto la lungimiranza di pensare a questo tipo di progetti, perché ovviamente con le nostre risorse non avremmo mai potuto fare nulla di tutto questo. Oggi abbiamo messo a disposizione dei ragazzi, insomma, questa che è la progettazione e credo che, insomma, l'invito che faccio alla Regione Puglia è di ripensare a rifinanziare questo tipo di progetti, perché sono veramente importanti per i nostri ragazzi. Ecco, i destinatari sono loro, sono i ragazzi. Dalla sua esperienza, nella sua comune di competenza, che tipo di feedback ha avuto? I ragazzi accettano, percepiscono, comprendono fino in fondo quelle che sono le opportunità che in qualche maniera comune e regione stanno cercando di mettere insieme a beneficio del loro futuro, per dare delle opportunità al loro futuro. Ma io credo che è inutile negare che il primo impatto è sempre un impatto di diffidenza della serie, ma è possibile che veramente ci stanno mettendo a disposizione delle posizioni aperte attraverso le aziende. Chissà cosa c'è sotto, o magari è la solita, insomma, non fregatura, ma è il solito fare la pubblicità su un qualcosa che poi non esiste. La perdita di tempo. La perdita di tempo. E invece devo dire che pian piano hanno capito che veramente è qualcosa di importante, veramente la formazione è importante. Abbiamo fatto degli incontri per far credere a loro nelle loro potenzialità. Io credo che questo sia molto importante per essere coscienti di ciò che loro stessi possono realizzare sulla loro pelle, insomma. Anche le posizioni aperte che abbiamo messo a disposizione in un primo momento c'era un attimo di smandamento, ma poi si sono resi conto, insomma, che stiamo parlando di qualcosa di assolutamente serio. Diciamo che si è iniziato a capire di più l'importanza del progetto nel momento in cui sta finendo. Quindi per quello, insomma, speriamo che questo progetto possa essere rifinanziato. Questo però è fisiologico. È assolutamente fisiologico. Mentre le cose si verificano, in genere non riusciamo a comprenderne la bontà fino in fondo, ma anche le criticità. È normale che sia così. Quindi nel caso in cui la Regione dovesse decidere di ritornare ad investire sulla formazione, ma mi pare che anche l'assessore Sebastiano Leo sia molto predisposto, in questo senso sicuramente saremo anche più pronti ad affinare alcuni meccanismi per fare in modo che da subito, in questo secondo step, in questa seconda fase, tutto vada, diciamo, nel migliore dei modi. Dei modi, lo ripetiamo, a beneficio ovviamente dei ragazzi. Assolutamente. Mi pare che la Regione abbia già deciso di rifare il bando, per esempio, su punti cardinali. Ovviamente il Comune di Carosino parteciperà e ovviamente anche noi stessi abbiamo la giusta esperienza per poterlo fare ancora meglio e per poter dare ai ragazzi ancora qualcosa di assolutamente più positivo anche rispetto a prima, perché anche noi eravamo, tra virgolette, inesperti rispetto a ciò che stavamo facendo, ma insomma, se dovessero rifinanziare le notizie che abbiamo sono assolutamente verso quella direzione, sicuramente lo faremo ancora meglio di quanto non l'abbiamo fatto nella prima fase. Per quanto riguarda invece le prospettive, comunque ci sono ancora dei mesi per continuare a lavorare, poi si vedrà la campagna elettorale. Cosa, Sindaco, le piacerebbe portare a casa in termini di risultato? Beh, intanto mi piacerebbe finire tutto quello che abbiamo ancora in sospeso. Carosino ha ancora grossi finanziamenti da poter realizzare sul territorio, abbiamo ancora progetti di fogna bianca, insomma, le acque priviali, abbiamo un progetto di circa, totale, di circa 2 milioni e mezzo di euro che inizieranno a breve i lavori. Dobbiamo terminare i lavori della scuola materna a Gazzi, dove stiamo facendo sia l'efficientamento energetico, ma anche la sicurezza sismica. Stiamo terminando i lavori alla scuola elementare per un progetto sempre di 1 milione e 200 mila euro. Insomma, abbiamo tutta una serie, che dobbiamo continuare a lavorare sul territorio con tutti quei progetti che abbiamo in corso e che dobbiamo cercare di realizzare nel più breve tempo possibile. Noi come amministrazione non abbiamo aspettato fine mandato per cercare di mettere in moto, per far vedere delle cose, ma il nostro comune, sì, dall'inizio del nostro insendiamento, anche perché eravamo già, diciamo, non dovevamo fare il rodaggio, ma eravamo già persone, insomma, la mia amministrazione, io stesso eravamo già persone che conoscevamo la macchina amministrativa, sin da subito ci siamo messi al lavoro e diciamo che il nostro paese per quattro anni e mezzo è stato un cantiere aperto, non soltanto dal punto di vista dei lavori pubblici, ma anche abbiamo dedicato molta attenzione alla cultura, perché come le dicevo prima, un paese non si vede soltanto dalla strada asfaltata o dall'opera pubblica, ma credo che è molto più importante farlo crescere dal punto di vista culturale. Avete avuto problemi con i fondi del PNRR, con i progetti avviati? Non abbiamo avuto grandissimi problemi, insomma, leggevo l'altro giorno una statistica dove ci vede al 5%, insomma, dove Carosino ha intercettato il 5% dei fondi PNRR, devo dire che tutti quelli che abbiamo cercato di intercettare o sono ancora in fase di decisione da parte degli organi competenti oppure le abbiamo già avute finanziate. È stata gestita bene, secondo lei, questa storia della PNRR? Era una grossa opportunità per far ripartire il paese? L'abbiamo gestita e mi consenta di... Mi lasci passare questo termine all'italiana? Oppure l'abbiamo gestita bene? Perché poi è possibile pure che a chi di competenza arrivino delle critiche che non sono giustificate. Non mi pare che sia così, però, insomma, io vorrei sapere anche il parere dell'amministratore. Il PNRR scandisce dei tempi dentro cui tu ci devi essere. Credo che dopo la prima fase, insomma, la fase iniziale dove avevamo tutti i problemi di personale, nel senso che non avevamo il personale giusto per poter, diciamo, rispettare i tempi che ci diceva il PNRR, ma poi su questo è intervenuto sia l'Anci, insomma, sono intervenute varie organizzazioni che ci hanno dato una mano in questo. Ovviamente noi stessi eravamo di fronte a una realtà nuova su cui dovevamo accelerare i tempi per poterci entrare. Diciamo che piano piano, almeno per quello che riguarda il mio comune, piano piano ci siamo messi, insomma, ingarreggiata e siamo riusciti, insomma, a fare quello che pensavamo di fare, insomma, tutto sommato siamo riusciti ad ottenerlo, voglio dire. Poi è ovvio, anche il PNRR era una fase nuova su cui i primi che dovevamo cercare di capire era nuova, eravamo noi. E diciamo che, insomma, si sono create una serie di circostanze che all'inizio avevamo delle difficoltà, però pian piano, insomma, anche noi siamo riusciti a fare quello che dovevamo e quello che il PNRR ci impone, insomma. Sindaco, siamo arrivati al momento dei saluti. Cosa vorrebbe trovare dal punto di vista delle amministrazioni? Una domanda che sto facendo a tutti i suoi colleghi che si stanno alternando in questo studio. E come regalo sotto l'albero di Natale? Beh, vorrei trovare una migliore qualità della vita per i miei cittadini in questo momento, quindi lavoreremo per questo affinché questo Natale possa continuare a migliorare la qualità della vita del comune di Carosino, di tutti i nostri cittadini. Approfitto anche per fare gli auguri a tutti voi, insomma, a voi di Antenna Sud, ai miei cittadini, ma soprattutto ai miei cittadini che non sono a Carosino. Cercheremo in questo Natale, attraverso i social, di farli sentire l'aria e il calore del nostro paese, che è veramente un bel paese, insomma, ma poi sono il sindaco, quindi non posso dire in maniera diversa, però sono contento del paese che amministra, insomma. Grazie a Donofrio Di Cillo, sindaco della comune di Carosino, per essere stato in nostra compagnia questa mattina e per averci, insomma, raccontato quello che si fa nel comune di Carosino per rendere migliore la vita dei cittadini.